Svevo Valentinis, responsabile dei risorsi umani Eschigel, si è fatto un gran parlare in questi giorni sul fatto che l'azienda potesse non richiamare tutti gli stagionali che avevano finora lavorato per l'Eschigel sulla base del fatto che è stato sottoscritto un contratto con una società interinale per chi chiamasse i lavoratori necessari alle produzioni. Qual è la posizione dell'azienda da questo punto di vista? L'azienda conferma che si avvarrà anche se tramite società di lavoro interinale degli stagionali che ha avuto negli anni precedenti anche nel 2015. Non avrebbe senso non richiamare le stesse persone. Quindi voi tendenzialmente richiamerete tutti quelli che hanno sin qui lavorato per l'azienda nel passato? Assolutamente sì, pescheremo nelle persone che conosciamo in relazione alle necessità produttive ma in quell'ambito non abbiamo volontà di andare a cercarne altri fuori. In questa fase ci sono state anche delle stabilizzazioni, di quante persone e di chi si tratta? Abbiamo fatto un accordo con la società interinale per cui la società ha stabilizzato, questa è sempre la società interinale, ha stabilizzato 50 persone che sono di ottima e elevata professionalità che lavoreranno part time, 10 mesi, da gennaio a ottobre ma soprattutto hanno un contratto a tempo indeterminato fatto con la società interinale. Et la società si trovi, ma abbiamo bisogno di tutti glialls rispi, è bibiliare